buongiorno buongiorno ciao a tutti bentrovati o bentornati o benvenuti sul mio canale devo cercare di fare la svelta perché l'arinella parte e va in trasferta quindi vuol dire che sta bene va giù dalla sua sorella qualche giorno e quindi oggi pomeriggio la devo accompagnare ma visto che avevo una mezz'oretta di tempo e spero mi basti volevo fare il video dei prodotti finiti beauty tanti 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 qualcosina non mi è piaciuto tanti mi sono piaciuti e tanti ve li consiglio spero che tutti voi abbiate passato delle vacanze pasquali una bella pasqua in compagnia di chi amate delle persone più care a voi noi siamo stati bene con le nonne così un po sul chi va là e poi lunedì siamo andati da da pietro e abbiamo avuto la fortuna di riuscire ad arrivare perché è scesa una piccola frana comunque uno smottamento appena dopo il paese dove pietro quindi per arrivare a edolo non si poteva non si poteva arrivare dalla prica ma fortunatamente noi abbiamo fatto una stradina veramente allucinante meno male che abbiamo la macchina piccolina e siamo riusciti ad arrivare sotto la pioggia battente siamo ritornati sotto la pioggia battente però è stato veramente un bellissimo lunedì dell'angelo in compagnia di pietro e di federica e siamo stati siamo stati bene ecco e quindi possiamo cominciare con il nostro video prodotti finiti beauty andiamo sempre a random allora finito questo shampoo della balea sono ancora le vecchie confezioni perché adesso ho visto che il marchettino è cambiato ma sabato se riesco andrò a curno con la mia amica e collegarella e vedremo che novità ci sono da balea questo è uno shampoo molto molto delicato trasparente mi sono trovata molto bene perché soprattutto con gli shampoo quelli che utilizzo per i capelli decolorati non faccio mai due shampoo dello stesso tipo di shampoo scusate la ripetizione perché ho paura che siano troppo aggressivi e soprattutto con quello di elvive che sto provando e mi sto trovando benissimo perché tonalizza meravigliosamente però non vorrei proprio diventare la fata turchina quindi il primo shampoo lo faccio con un detergente delicato e poi faccio quello fissativo del colore mi piace costano poco sono buoni devo dire la verità con tutti i prodotti di balea io mi trovo sempre bene l'unica cosa che magari non mi piace alcune volte la profumazione perché alcune sono anche abbastanza intense e se danno fastidio a me dopo un po insomma mi mi fastidiscono e allora cambio però devo dire che a livello di detergenza mi sono sempre trovata benissimo continuiamo con un shampoo che ho preso a mattia che ha i capelli grassi lavaggi frequenti della sien si è trovato bene mi ha detto che gli è piaciuto infatti l'ho già ricomprato a qui c'ho il sacchettino sbattiamo dentro nel sacchettino poi ho finito questo shampoo secco di balea mi sono trovata benissimo davvero davvero benissimo non lascia residui bianchi o grigi vero che poi io ho comunque il capello decolorato si spazzola benissimo asciuga molto la parte sporca del capello mi è piaciuto come mi è piaciuto anche questo della sien infatti devo andare a ricomprarli perché ho finito tutti gli shampoo secchi davvero molto buoni fanno il loro lavoro e costano poco vediamo di non far cadere tutto poi 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 finito questo pantenne shampoo va più balsamo più trattamento questo l'ha finito lucia gli è piaciuto sono quelli che quando trovo in sconto e compro sempre per lei io non li uso finita in compagnia questa crema depilatoria che utilizza mattia per la barba ma all'occorrenza la utilizziamo anche io e lucia per depilarci le gambe o le ascelle buona fa il suo lavoro un profumo molto delicato niente di che però il suo lavoro lo fa e quindi continueremo a ricomprarla ho finito non ho qui il barattolone perché a un certo punto li ho buttati anche via perché sono troppi questo profumatore d'ambiente al legno di cedro basilico e limone dell'avon magari un pochino più profumato non mi è piaciuto tanto sentivo ben poco se non nelle prime giornate in cui l'ho messo in bagno quindi no non lo ricomprerò finita un'altra crema da rasatura della balea sempre ottimo infatti sabato devo andare e farne scorta perché le abbiamo finite tutte buonissime 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 se non le avete provate provate ah eccola qua infatti buona ragazzi questa l'avevo comprata ho ricominciato a fare qualche maschera pochissime pochissime perché sono pigra la sera mi ha dormito e le maschere le faccio solo alla sera questa maschera l'avevo presa da action ed è tantissimo che non vado più favolosa una maschera bella rimpolpante al al riso agli estratti di riso quando l'ho tolta e poi l'ho fatta veramente ho massaggiato il siero la pelle era spettacolare veramente ottime non vi dico che le ricompro perché ne ho a centinaia però questa è una buonissima maschera ed è anche vegana se qualcuno è interessato poi quindi abbiamo finiti a iosa e non mi soffermerò questi sono i dischetti di euro spin sempre ottimi questo sono questo questi sono i dischetti di conad sempre ottimi poi abbiamo finito le salviettine queste della queste le comprate era una confezione da tre le avevo prese alla lidl mi piacciono io li uso in in bagno come fazzoletti per struccarmi sulle mani quando provo i colori delle palette oppure anche come fazzoletti per il naso un po leggerini però si sono in bagno vanno bene anche questi sono buoni sto finendo l'ultima scatola e poi mi devo ricomprare finita questa splendida acqua micellare all'acido ialuronico di deglia mi è piaciuta tantissimo comprata su notino ve l'ho forse fatta vedere nei preferiti mi è piaciuta tanto 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 mi pare che vi avessi detto che era per le pelli miste grasse e non delicate se non ricordo male è così perché quando la mettete insomma si sente sulla faccia è vero che poi va risciacquata finito mamma mia questi non capisco mai finito non io il balsamo perché uso pochissimo sui capelli la lucy anche con questi ci troviamo sempre bene quindi ottimi questo aveva un profumo di mandorla se non ricordo perché mi piaceva il profumo esatto il profumo proprio di mandorla latte alla mandorla ok sono curioso di vedere i nuovi pack finito invece questo shampoo antiforfora usato da paolo sono sempre buoni questi qua della garnier quindi quando li trovo in offerta le compro sempre poi buonissimo camomilla biolis natura detergente intimo delicato buono 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 l'unica cosa che non mi è piaciuta tanto era la consistenza troppo gelosa troppo come se ci fosse troppa glicerina ecco molto buono leggerissimo delicato però un po troppo geloso e con questo dosatore alla fine si fa un po fatica comunque buon prodotto ed è 98 per cento di ingredienti naturali poi finita questa crema di cui vi avevo parlato benissimo e lo riconfermo una crema per il giorno io l'ho utilizzata sotto il makeup ma va bene anche alla sera se non avete delle grossissime esigenze non è grassa non è unta nutre bene la pelle si assorbe subito è vegana ed è quella della linea per le pelli miste grasse ottimo 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 i prodotti di ziaia ziaia giusto sono veramente buonissimi sto utilizzando un'altra crema ed è top anche quella poi finito questo struccante bifasico della sien per occhi buono nulla di particolare ma buono e quando c'è lo ricompro quando finisco le mie scorte li ricompro spesso finiti a fatica e finalmente li ho finiti alla fine non sapevo neanche più che cosa farne questi dischetti di cui vi avevo detto che non ero assolutamente contenta forse addirittura in un video dell'anno scorso che avevo comprato e alla balea mi avevano cantato meraviglie e niente allora a parte che sono piccolissimi quindi struccarsi con questi dischetti in più erano imbevuti tantissimo di questa sostanza oleosa struccante se basevana fatiga finiti e non li ricompro più poi finita questa lacca di balea mi è piaciuta e la devo ricomprare ha una tenuta media un 4 su 5 punti devo dire che mi piace è la tenuta che diciamo aiuta a sostendere i capelli ma non vi fa sembrare un pacchetto insomma quindi buona e ne ho un'altra in scorta e poi quando vado la ricompro perché mi piace poi i prezzi visto i prezzi delle lacche anche quelle costano veramente un patrimonio finiti questi 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 pazzoletti di carta perché abbiamo preso tutto il raffreddore e continuiamo ad avere il raffreddore non so dove io li abbia presi non mi ricordo se li ho presi all'eurospin alla lidl al di gotà comunque sono pazzoletti che fanno il loro lavoro non irritano il naso a me piacciono di più quelli che hanno un po di olio balsamico comunque quel profumo un po mentolato perché mi sembra che mi rinfreschino ma va bene lo stesso finito questo tonico dell'oreal tonico rimpolpante rivitalif spettacolare mi è piaciuto tantissimo lo ricomprerò quando ho finito le scorte yes buono 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 ve lo sentite sulla pelle vi lascia la pelle bella compatta quando lo mettete ha proprio quella sensazione che oh mi sta facendo bene al viso mi piace tantissimo veramente un buonissimo tonico poi 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 finita questa crema corpo non riesco più a farla scendere ce n'è dentro un cinino ma ho provato anche con la palettina niente l'avemi a joe avevo comprata da md si giusto crema fluida corpo molto buona la cosa che mi piace che si assorbe subito e non lascia quella sensazione troppo scivolosa untuosa un profumo molto delicato 95 per cento di ingredienti naturali certificata ecobio icea nutriente rinfrescante mi è piaciuta mi è piaciuta ha un profumo davvero molto molto delicato eccolo qua poi oh qui abbiamo un po di allora questi deodoranti vabbè il dav che ve lo buonissimo questo poi è una profumazione molto talcata zero per cento di sali di alluminio e questo vi copre veramente per 48 ore cioè vi dovete lavare però è ottimo come è ottimo questo pelle sensibile zero sali e zero alcol al con l'avena lenitiva della neutro roberts è buonissimo veramente buonissimo costa un pochino meno del dav quando li trovo in offerta sapete che io li prendo tutti come mi è piaciuto tantissimo questo di infasil è freschissimo ha un profumo agrumato è veramente buonissimo buono 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 senza alcol qui non sono sicura che non ci siano i sali ma non ci vedo però tutti e tre sono validi e ve lo dice una donna che è in meno pausa e che ha le scalmane dell'asciura gianna quindi suda tantissimo poi continuiamo finito ogni tanto riesco a recuperare anche in identifici perché poi mio marito li prende di butta via questo di acqua fresh sarà perché mi ricorda la mia infanzia ma è il mio preferito lascia la la bocca fresca l'alito fresco pulisce bene è il mio preferito poi finito anche questo venuto parlato tantissime volte sono dei prodotti che mi piacciono tantissimo non li uso io ma li usa paolo shampoo anti forfora anti prurito della conad ed è veramente veramente buono questa linea è tutta da scoprire buona 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 anche come di adoranti a poi abbiamo anche qualcosa anche di make up finita finalmente queste creme con filtro solare sono buonissime queste coreane ma non finiscono più non finiscono più sto finendo la seconda che avevo già aperto non ne ho aperte altre perché poi ho paura che mi vanno da male comunque madagascar centella con cica acido ialuronico è molto molto buona però finalmente è finito finito questo detergente della frudia mi è piaciuto tantissimo al pongranade che non mi ricordo mai che cos'è il melograno lo uso come secondo step della detersione e anche questa è finita ci ha messo tantissimo a finire perché poi ne ho altre in uso però mi piace molto fa è una crema non so neanche se si vede più perché ho tirato fuori e no perché poi non ho niente per cui pulirmi niente è una crema molto molto densa che poi quando si mette sulla faccia e si bagna diventa una una schiuma spettacolare pulisce molto bene ed è veramente molto molto buona fruida fruida qui non taglio niente fruida giusto non fruida fruida poi ho fatto un'altra mascherina qua mi è allora questa maschera della balea viso nutriente con olio di cocco ed estratto del frutto del drago qui ne ho fatte quattro applicazioni secondo me ce n'era tantissimo pure sarà che la mia pelle adesso assorbe meno non lo so comunque me la sono spalmata per bene l'ho lasciata agire una decina di minuti non di più perché dopo cominciava un attimo a pizzicarmi però poi quando l'ho tolta non mi ha dato nessun problema nessun arrossamento buone tutte queste mascherine sono proprio buone e ti lasciano la pelle bella idratata bella liscia poi anche questo era un prodotto che non mi era piaciuto e ve l'avevo detto woga woga era un olio struccante che non struccava un piffero e ora io me lo sono spalmato sul corpo e li ha fatto veramente il suo effetto era profumato agli agrumi buonissimo l'ho messo come olio corpo dopo la doccia ed è andato benissimo poi ho finito invece questo the glow hero il bacucchiola l'oil serum al bacucchiola della iepoda mi è piaciuto anche qui ci ho messo tanto perché vabbè non è che di serum soprattutto in olio ne metto due goccine però buono 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 anche questo e poi siamo quasi alla fine ho finito vabbè questo tester della lancome che poi ho comprato ovviamente il ne avevo un po di tester di questi e li ho provati la colorazione mi piaceva mi piace anche la tenuta di questo splendido fondotinta e mi sono comprata la full size però questo l'ho finito e poi ho finito anche questo super matte beige 200 di ives rocher mi piacciono ma hanno una profumazione che non mi piace quindi vabbè è vero che di fondo tinta ne ho tantissimi però non lo ricomprerei proprio per la per la profumazione come tenute come colori mi piacciono molto ossidano leggermente dopo cinque minuti che li avete messi tutti perché ne ho provati di varie tonalità però sono davvero molto molto buoni ed ho finito invece il mio amato perché l'ho amato davvero tantissimo max factor second skin foundation 0 75 era il colore l'ho veramente svuotato è penso dei fondotinta più vecchi nella mia collezione di make up l'ho usato l'ho strausato l'ho usato fino alla fine non mi ha fatto nessuno scherzo ed è un buon fondotinta tiene bene si spalma è vero che adesso io mi rendo conto che metto molto meno fondotinta di una volta un pump e mi basta per tutti e quindi alla fine ha fatto una fatica a finirlo nel senso che non finiva più adesso ne ho altri due in uso che spero di dargli una bella bottazza però adesso arriva l'estate quindi il fondotinta non lo metterò più vabbè non importa comunque questo l'ho finito con molto molto piacere mi è piaciuto molto non lo ricompro perché ho tanti fondotinta poi ho finito anche questo correttore di revolution questo primer e correttore di revolution mi è piaciuto anche questo ho cercato di tirar fuori il possibile mi piace anche perché ha questo bel pennellozzo che aiuta a stendere bene mi è piaciuto la colorazione che avevo io non la vedo neanche più però buoni prodotti di revolution devo dire che mi piacciono parecchio sia per il make up che per la skin care poi ho finito questo siero viso era bifasico olio e siero acquoso lo usavo alla sera anti age 24 ore stirante riempitivo levigante a me è piaciuto tanto era comunque nutriente ed ha un profumo che è paradisiaco mi è piaciuto questo io lo utilizzavo soltanto alla sera perché i sieri in olio li utilizzo solo alla sera alla sera posso anche abbondare ma di giorno preferisco di nuovo visto la mia pelle mista grassa e abbiamo udite udite è finito ed ho svuotato il mio adesso vi faccio vedere che bel cestino ho finito questo stick labbra questo burro cacao che se non ricordo male mi aveva regalato la mia amica simo di pensieri e pasticci ciao simo al compleanno dell'anno scorso ma siccome ne ho tanti in giro in casa in borsetta e da tutte le parti questo l'ho finito e niente buono molto buono ammorbidisce molto bene la pelle e soprattutto non si asciuga subito rimane per un po anche mentre si mangia ovviamente non mentre mangio polente abrasato ma se uno mangia un crackerino o fa una merendina questo resiste mi è piaciuto molto di equilibrio e signori e signori abbiamo finito eccolo qua il mio cesto vuoto guardate che carino me l'hanno regalato a Natale con dentro dei prodotti e adesso io lo utilizzo per metterci i miei prodotti finiti bene cari amici ed amiche io vi saluto vado a prendere la rinellas e la porto in quel di sirone vi do appuntamento ad un prossimo video grazie per essere arrivati fino a qua se ci siete arrivati e a presto a tutti un abbraccione e buona continuazione di settimana ciao